In occasione dell'importante evento dell'ottantottessima donata nazionale degli Alpini che si terrà all'Aquila domenica 17 maggio, Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade abruzzesi a 24-25, rende noto che è previsto un consistente afflusso di persone, circa 250.000 provenienti da tutta Italia, che soggiorneranno nella regione Abruzzo o nelle regioni confinanti a partire da venerdì 15 maggio, nei giorni precedenti l'evento. Tanto nella giornata di venerdì quanto di sabato gli arrivi presso la città dell'Aquila saranno scaglionati dalla mattinata alla sera. Il comitato organizzatore dell'Aquila prevede circa 40.000 persone residenti nel circondario dell'Aquila, di Sulmone e dei comuni dell'Altopiano delle Rocche, che oseranno le strade statali per arrivare all'Aquila. 40.000 persone che alloggeranno nella Marsica e nel Lazio nei giorni precedenti la donata e che percorreranno l'autostrada 24 per raggiungere la città dell'Aquila. 80.000 persone provenienti dalla costa triadica che percorreranno l'autostrada 24 per raggiungere il capoluogo, 90.000 persone non alloggiate in Abruzzo che arriveranno direttamente la mattinata di domenica, dove è previsto il maggiore e più consistente afflusso di persone. Stamani intanto è arrivato il messaggio del presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. L'appuntamento con l'ottantottesima donata nazionale degli Arpini che si svolgerà in questi giorni costituisce una straordinaria occasione per la città dell'Aquila e per l'Abruzzo intero per riaffermare sentimenti di amicizia che legano il nostro territorio e le forze armate, ma è anche l'occasione per testimoniare gratitudine e affetto verso l'impegno profuso dagli Alpini, da volontariana a quelli della progettazione civile, in occasione del terremoto del 2009, sottolinea Di Pangrazio in un messaggio inviato all'ANA. L'Abruzzo forte e gentile, proseguito di Pangrazio, da sempre terra di reclutamento per il corpo degli Alpini, ha saputo offrire nel tempo l'apporto di migliaia di giovani che si sono sempre distinti per passione, tenacia, lealtà e soprattutto attaccamento ai valori della patria. Questa terra ospitale sono convintose per accogliere con l'entusiasmo, il calore e la generosità di sempre le tantissime delegazioni italiane e straniere per vivere insieme giornate indimenticabili che salteranno i vincoli fra le forze armate e gli italiani, ravvivando sentimenti condivisi i quali l'amor di fate e il senso del dovere. Sono certo, conclude il Presidente, che in questo breve soggiorno potranno conoscere e apprezzare meglio questa regione amica e solidale che, nonostante le difficoltà, sa lottare e lavorare per sperare sempre in un avvenire.